Benvenuti a Wire. Oggi scopriremo insieme un percorso innovativo per la conoscenza della cultura enoica attraverso il connubio tra eventi di degustazione e mondo dell'arte. Il vino è legato al patrimonio enogastronomico italiano, centro di connessione e collaborazione creativa, capace di creare sinergie positive tra agricoltura, turismo, artigianato e commercio nel rispetto delle vocazioni territoriali. La cantina che conosceremo oggi è Trulli il Castagno. Trulli il Castagno è un'azienda agrituristica a conduzione familiare. Da generazioni la famiglia Spalluto coltiva la vita con passione e dedizione, tramandando tradizioni e usi tipici dei contadini della Valle d'Itria, la Valle dei Trulli. I vini poveri prodotti nel passato dalle sapienti mani dei contadini sono diventati oggi vini preziosi, concentrati di storia e tradizione. L'azienda è composta da pochi ettari di vigneti curati dalle mani di papà Pietro. Lui conosce ogni singola vite e riesce ad assicurare ad ognuna l'attenzione che merita. Grazie per la visione!